Per un credente, Dio padre, madre, amore, e per chi non è credente, la grande male natura ha donato a ciascuna persona umana tre grandi donne, l'intelligenza, cioè intus legere, leggere dentro le cose. Quindi la distinzione, come vi diceva tanti anni fa Norberto Bobbio, non è tra credenti e non credenti, è tra pensanti e non pensanti. Quindi fai la distinzione tra credenti o credibili. Secondo dono, l'emotività, cioè la creatività. E il terzo grande dono è la spiritualità, l'antropologia scientificamente. La chiama già al punto di Dio, cioè questo dono il quale ti dà la possibilità di, nella meditazione, a volte nel silenzio, nel raccoglimento, di entrare nel tuo profondo, nel tuo interiore e scoprire tutte le tue potenzialità. È uno stile di vita, cioè è volare in alto, è amore per te stesso e per l'umanità. Da dove vengo? Dove sto andando? Questo è il punto centrale. E allora ti avvicina al mistero della vita. E allora ti apre quello che è veramente il tuo cammino. Una possibilità proprio di scoprire che questo mistero umano ha una sua realizzazione completa. Come dicevano i vecchi padri della Chiesa, la morte dice, è una vita mutata. In latino dice vita mutatur, non tollitur. Ti fa rendere veramente questo senso proprio di presenza ormai. Cioè una vita mutata, quindi in un passaggio di completa maturità. La paura è un sentimento reale, non si può cancellare. Ma la spiritualità ti aiuta a rispondere al sentimento della paura. Perché? La paura fa anche delle domande. E allora questi tre doni, l'intelligenza, l'emotività, la creatività e la spiritualità ti mette in condizione di rispondere a te stesso senza lasciarti schiacciare a quello che poi si dice il fatto, il destino, il nulla, il nichilismo. Cioè siamo esseri viventi, cellule viventi. Cioè è la scoperta della vita l'obiettivo centrale. E il nostro primato della coscienza ti mette in condizione che non sei subordinato a nessuna autorità terrena. Per esempio la strada cristiana ti mette in condizioni che il tuo rapporto che comincia io e Dio non può che terminare nel noi. Ed ecco allora che la parola comunità, comunione, disponibilità, giustizia sociale, una città a misura umana, una spiritualità che può aiutare la religione a diventare spirituale. Mentre invece sono strumenti di potere. E Gesù dice guarda tu cristiano, cristiani, se te sale e il sale non si vede, se te lievito e non si vede lievito. Quindi quale autoreferenzialità? Tirarsi sulle maniche e camminare insieme a tutti gli altri uomini e donne. E soprattutto addirittura arriva sentendo questa proprio nell'essenza di comunione in famiglio cristiano, Gesù dice sei un chico di grano che marcisce e dà la vita. Cioè al cristiano per la difesa dei diritti di tutti deve essere pronta a dare la vita corporale. Grazie. 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 Grazie.